riprendiamo siamo sempre il 3 di giugno 2017 raduno alfa sud club italia siamo in slovenia finalmente ho il damiano su con me che mi fa un po di compagnia la passeggero sulla mia 30 passeggero sulla sua 33 e niente cosa dire adesso finalmente sono sono contento di non essere più da solo almeno si possono scambiare due parole la 33 la va bene 33 fatto vedere al damiano come si avvia la sua 33 perché parte che è una cosa deliziosa un avviamento eccezionale senza nemmeno mettere sfruttare l'acceleratore senza toccare l'acceleratore senza niente un giro e mezzo di motorino d'avviamento e le apposta una cosa che ci terai a dire siamo siamo in slovenia non mi sembra che cambi tantissimo dal territorio italiano eppure c'è un po di più quel senso di ordine pulito e cioè anche le strade fanno un po meno pena che da noi ecco non è che vedo proprio tanta tanta differenza però un po si nota si decisamente ecco abbiamo detto le stesse parole insieme sarà postato un cornuto e vabbè prima volta per me in terra slovena ma la sua 33 lo porta da mi in slovenia e dall'altra filmassin adesso qui abbiamo flaminio che chiede strada lo facciamo passare se volesse passare spazio ne ha no è buona settimana secondo me anche se volesse passare spazio nei metalli Grazie a tutti.